Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh Cari fratelli e sorelle Siamo ancora qui per darvi qualche lezione Preghiamo Allah subuhana wa ta'ala Di facilitare per noi Inshallah La nostra lezione di oggi comincia con Le frasi Taba 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 Zada 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 Come voi vedete questo qua Questo alif qua E' per tirare questo ta Iguale Questo qua in mezzo Per tirare questo za Quindi Taba Zada 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 Khafa Khafa Kola Kola Faraga 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 Junahu Junahu Shariba Shariba Jahada Jahada Kha Meritan Kha менνα Khei Nela Kha 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 Kji Kha Kha Kti Keli Khi Kha Saba Saba da ala da ala kitabu kitabu andadan andadan vedete questo due qua questo tira da questo d'acqua e l'altro tira questo d'acqua andadan andadan shaytuanun shaytuanun ta'amun ta'amun durianin durianin bijabin bijabin continuiamo abbiamo qua ilahi ilahi vedi e questo qua sempre sukuni perché ti permette di tirare questo l'acqua ilahi ilahi amina amina adama adama dalika dalika kitabu kitabu abawahu abawahu maliki maliki rahmani rahmani fadhalika fadhalika konitatun konitatun vedete konitatun perché tira qua e tira anche questo qua konitatun hafizuatun hafizuatun solihati solihati salihati samawati samawati zulmatun zulmatun bi ashabi bi ashabi alhaakumu 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 come raza con a whom raza con a whom raza con a whom a toy naka a toy naka inshallah continuiamo vedete inshallah abbiamo qua u u u u u u allora questo qua è u questo qua è u perché questo qua ti permette di tirare un po u u u u bu 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 tu 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 su 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 ju 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 Dù 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 Rù 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 Zù 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 Su 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 Continuiamo. Abbiamo qua Su 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 Dù 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 L'euro L'euro Continuiamo, insha'Allah Abbiamo qua Vedete questo qua? Adesso questo ha un qua Lui non parla più perché di là parlava L'altra parte parlava Ma qua Vedete? Non parla più E lui fa tirare questo qua Fa Yuhà Yuhà Nuhà Nuhu 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 Burika 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 Koruna Korunu Korunu Haruna 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 Haruta 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 Vedete? Questo qua? Questo qua? Au qua? Tira questo U Questo au Tira questo Tu Haruta 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 Continuiamo, abbiamo qua Grazie a tutti Grazie a tutti Abbiamo qua Quindi abbiamo qua E Continuiamo Grazie a tutti Grazie a tutti Scusate Grazie a tutti Grazie a tutti